Ciao a tutti i ragazzi del CPM, noi siamo i Day Lies, volevamo ringraziare davvero tantissimo per questa opportunità che ci è stata data perché oggi siamo riusciti ad esprimerci qui all'interno della scuola portando le nostre idee, i nostri sogni, il nostro progetto. Non vediamo l'ora di ritornare con tante altre cose e condividerne altrettante.